La città di Andria attende con ansia il prodigio della Sacra Spina e la dioce si è organizzato nei minimi dettagli quella che sarà la giornata di venerdì 25 marzo. Venerdì mattina la reliquia della Sacra Spina sarà esposta nella cappella di San Riccardo sul sarcofago in legno dorato, dove anticamente erano poste le ossa del Santo Patrono. La chiesa cattedrale sarà aperta alle ore 7 quando inizierà l'osservazione da parte dei canonici e dei componenti della commissione scientifica e pastorale che saranno tenuti a relazionare ad ogni cambio di un'ora circa. Dalle ore 8 alle ore 23 si terranno momenti di preghiera guidati e alle 9 la celebrazione della liturgia delle ore. Alle ore 17 Monsignor Raffaele Calabro presiderà la celebrazione della Passione del Signore e alle ore 19 e 30 in Piazza Catuma la Via Crucis che sostituirà la tradizionale processione dei misteri e durante la quale non mancherà il ricordo per le vittime di Bruxelles e della feroce umana. Per l'intera giornata alcuni sacerdoti saranno disponibili in cattedrale per le confessioni. I fedeli potranno accedere in cattedrale attraverso due diversi ingressi. Dalla porta laterale sinistra entreranno coloro che vorranno transitare dinanzi alla Sacra Spina e sostare per qualche istante. Dalla porta laterale destra alla porta santa entreranno coloro che vorranno fermarsi in cattedrale per la preghiera e accostarsi al sacramento della confessione. Per favorire la preghiera personale la cattedrale resterà aperta tutta la notte. Sarà assicurata per buona parte della giornata la diretta sul canale 190 news 24.city mentre due maxischermi saranno posizionati rispettivamente in Piazza Duomo e in Piazza Catuma con una telecamera fissa sulla Sacra Spina. Volontari di diverse aggregazioni laicali garantiranno il servizio d'ordine agendo d'intesa con le numerose forze dell'ordine che saranno presenti. Si annuncia la presenza di gruppi di fedeli provenienti da paesi limitrofi e lontani prevista anche la partecipazione di autorità religiose e pubbliche provenienti da fuori diocesi. Un punto vendita del francobollo emesso per l'occasione dalle poste italiane delle medaglie commemorative e delle mappe della Sacra Spina nonché di vari ricordi sarà predisposto presso la sede della confraternita del Santissimo in Piazza Catuma.